Il bar-ristorante Ponte Serra è un po' la porta dell'Alta Val Cismon e molti sovramontini erano di casa lì, quindi per noi veramente è un colpo al cuore. Sono arrivato a portare la solidarietà perché in questo momento più di questa non possiamo. Poi in futuro dovremmo metterci intorno a un tavolo e pensare a dare una mano perché è una famiglia giovane che si era messa imprenditorialmente a creare qualcosa di bello e quindi noi possiamo lasciarla a piedi. Problemi alla viabilità diceva il sindaco in questa mattinata di deviazioni? Sì, mattinata e penso giorno intero di passione per sovramonte perché tutta la viabilità è stata girata sulla SP473 che fino a Servo o fino alla serie municipale è agevole dalla SR50. Però da Servo a Passo Croce Daune ci sono punti che hanno strettoie e lo sappiamo bene, avevamo già avvisato di questo problema ancora prima che succedesse questo perché è l'unica bretella esistente se la SR50 va in tilt e questa mattina ne abbiamo avuto l'esempio, due macchine si passano però macchina e camion si blocca la circolazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!